Buonasera, giornata, anzi serata importantissima questa per il Bar Giuliani che oggi, il 25 agosto, presenta insieme al nostro sponsor principale, quello che tira fuori sempre soldi in pratica, la nuova maglia per la stagione 2011 e 2012. È appena anche arrivato Gian Claudio a mostrare la nuova divisa, con tanto di scritto, molto belle. André, una battuta fresca su questa nuova maglia, la decisione di cambiare. Bene, bene, molto bello. Ricordiamo che André ha fatto un grandissimo sacrificio, quindi da parte della squadra, da parte anche dei giocatori che nel prossimo anno, dopo pochi mesi, indosseranno la maglia. Un ringraziamento particolare. Claudio, se non ci c'è qualcosa? Insomma, la decisione non è stata facile, ma penso che a fine è stata giusta. Il sacrificio ha portato, giusto così, un cambio di colore comunque abbastanza importante tra la squadra, che è sempre stata riconosciuta per il colore giallo degli ultimi conti staggianti. Cinque anni con giallo, quest'anno abbiamo deciso di portare pagina e ecco le ponte. Allora dell'Argentina, che non ha fatto una brava figura in Copa America. Speriamo di farlo bene. E poi devi fare il tempo cos'altro, ringraziare qualcuno? Ma più che altro speriamo che porti una fortuna per la nuova stagione. Speriamo che l'Argentina, voglio dire, anche se arriva per noi. Non sarà una stagione semplicissima, ma ci allonteremo tutta. E' una bandiera del balconiare, di bacine. E infine ringraziamo anche l'altro sponsor, che ci ha permesso anche l'iscrizione, certo una mano molto importante per l'ispezione, quindi il termine Altersliners. E' la persona di Marco Cortolussi, che ci ha dato un'ulteriore mano per l'ispezione della stagione 2011-2012. Se voi non avete altro, possiamo... Facciamo la presentazione... Però adesso puoi far vedere bene le maglie... Normale, pazzo di arco. Gentile. Potete andare dal tessuto, non potete tastarlo. Speriamo bene. E niente, non ci resta che salutarvi e... Allora, mi raccomando a Fanna il venerdì in casa. Fra poco metteremo su centro anche gli orari. Partite l'ora. 20 e 15 in teoria, salvo dei pensamenti. Vi spegniamo numerosi per vedere noi e quindi anche per vederemo la maglia. Quindi, alla prossima. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Alla prossima. Alla prossima.